e ci risiamo con festival show casting cari amici sentite già il pubblico che applaude perché qui in questo fantastico centro commerciale siamo a leone di lonato in provincia di brescia ancora una volta per sentire tanti tanti ragazzi che ambiscono al palcoscenico più grande al tour migliore di tutta l'estate 2015 che sarà festival show in questo casting ovviamente anche una giuria d'eccezione che valuterà i nostri ragazzi avremo alexia dopo buon poveriggio benvenuti a festival show casting eccoli qua il casting quando abbiamo iniziato il 28 febbraio l'inizio del sputto la sanità del 1 marzo 2 marzo a Roma e ancora 2 marzo pescara andiamo avanti 4 marzo siamo stati a Tanto 5 marzo a Lecce 6 marzo a Reggio Calabria 7 marzo a Catania continuiamo 8 marzo siamo stati a Rivano il 15 siamo qua 20 marzo a Castelfranco Veneto queste le date del festival show casting applauso yes Sofia Pivato sfilata sfilatina sfilatina molto bene o te la faccio vedere io eh come sono andato grazie questa è la dimostrazione di quanto sono una ciofeca a sfilare signore e signori Alexia ciao Alexia benvenuta eccola qua tutta per voi grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti